Dottor Gennarini, che contributo può dare una società di advisory come Vital&Co nella crescita sul mercato delle medie aziende italiane? Diciamo oggi, spesso e volentieri, le medie aziende hanno dei bei prodotti, dei buoni numeri di bilancio, ma non hanno un'idea di quale può essere il partner migliore di sviluppo, se un partner industriale, un partner finanziario, se c'è necessità di capitali in relazione a un business plan di espansione. La cosa più importante che deve fare un bravo advisor è quello di calarsi nella realtà, è un vestito su misura ogni volta, cercare di capire quali sono le esigenze dell'azienda e poi in relazione a quello trovare la soluzione migliore. Grazie dottore.